Abruzzo, Marche ed Umbria si mettono insieme per chiedere al governo un pacchetto di interventi eccezionali, come era già avvenuto per Sicilia e Sardegna, che si traducano in attività per potenziare l'incoming e nuove strategie in chiave turistica e commerciale. E l'iniziativa presa dal presidente della saga Enrico Paolini, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, si è fatta capofila tra i tre scali delle tre regioni del centro Italia. Affinché, spiega Paolini, i piccoli aeroporti rappresentino il futuro della mobilità, perché tra dieci anni continua, i grandi scali saranno ormai saturi. Siamo qui in riunione con i tre presidenti di Perugia, Ancona e il sottoscritto per l'aeroporto d'Abruzzo per costituire un coordinamento tra i tre aeroporti delle tre regioni del centro Italia, Umbria, Marche ed Abruzzo, che possa poi porre su nostra iniziativa al ministro dei trasporti l'idea di un tavolo tecnico per aprire una trattativa e un confronto sulle prospettive strategiche di questi aeroporti medi del centro Italia, delle tre regioni pluriterremotate purtroppo che hanno subito in questi anni grandi danni, per chiedere non soltanto dei benefit e delle facilities relative al fatto che queste tre regioni terremotate dovrebbero essere aiutate sull'incoming sugli stranieri, come peraltro il governo ha sempre sostenuto, ma anche per fare proposte nuove strategiche per i prossimi dieci anni, perché come tutti sanno i grandi aeroporti si satureranno nei prossimi dieci anni e siccome ci saranno decine di milioni di passaggeri nuovi, ci sarà il problema di lanciare e di fornire a questi passaggeri la possibilità di usare aeroporti nuovi intermedi come i nostri.